Questo è un progetto che tiene insieme, un progetto per quell'area. Avete dominato l'ATL! Avete dominato l'ATL! Se ci venite voi come del tutto, così come questo progetto. Avete dominato l'ATL! Avete dominato l'ATL! Avete dominato l'ATL! Buongiorno Grazie a tutti. Un'osservazione giù. Un'osservazione giù. Un'osservazione giù. Un'osservazione giù. Un'osservazione giù. Un'osservazione giù. Un'osservazione giù.